Come si è entusiasmato? Come si riescono a dare quell'energia che è fondamentale in un percorso? All'inizio erano un po' titubanti ma hanno colto subito anche loro l'efficacia di questa idea perché era solo un'idea all'epoca. Poi si è sviluppata in un progetto vero e proprio, ha mostrato tutti i suoi aspetti di complessità e quindi era l'occasione ideale per quello che noi riteniamo debba essere una funzione della scuola, quello di far scuola anche fuori scuola. Qui ha trovato un ambito, un ambiente per cui è stato possibile coniugare più aspetti, più punti di vista attorno ai temi che Canzi ha citato molto bene Filippo, di luoghi comuni, di situazioni magari o di tabù o di idee preconcette sull'aspetto dell'artigianato e non solo, e sulla possibilità che i giovani hanno di offrire se stessi anche rispetto al futuro del nostro paese.